ciao ragazze allora oggi una location diversa perché sembra camera da letto e voglio farvi vedere la mia valigia per l'ospedale allora l'ho già aperta per aiutarmi visto che ho solo una mano libera e vi faccio vedere allora questa parte ho messo le coppette assorbi latte che sono queste qui che ho preso da da ocean erano dentro una scatola di carta di cartone ma l'ho tolta visto che sennò non entrava in valigia sono tantissime non mi ricordo quante poi dentro questa sacchetta invece ci sono tutti gli assorbenti post parto e le mutandine a rete messe qui dentro anche voi se lo torte dalla scatola poi questo nel beauty case ci ha messo un detergente intimo la spazzola il profumo il deodorante il dentifrice con lo spazzolino una matita per gli occhi e un elastico per i capelli e mi manca di mettere un po di fardo un po giusto per darsi un colorito quando siamo lì all'ospedale lo metterò all'ultimo poi qui ci sono le ciabatte ho deciso di non portare l'infradito perché mi hanno detto che non servono quindi non le porto poi da quest'altra parte abbiamo l'asciugamano per la bambina quindi questo grande bianco di chea la copertina che è tutta rosa la faccio vedere ci riesco con l'orsetto con scritto amore è di pile rosa ok dopo la sistemiamo poi un asciugamano per me da viso con all'interno un asciugamano da ospite la pancera strappo perché forse dovrò fare il cesario quindi la richiedono questa era di mia madre poi ho portato un cardigan per me comunque leggero ma agli affini di 10 m questo l'ho preso sul sito internet e l'ho pagato 10 euro 9 euro 90 dovesse far freddo fa so che nella clinica fa caldo infatti come vi farò vedere ho preso non ho preso delle delle cose a maniche lunghe ma ho preso delle t-shirt molto molto larghe a mezze maniche e userò quelle però magari c'è un momento in cui un po più freddo la sera freschetto quindi ho deciso di portarlo questi sono tutti i cambi per la bimba dentro queste sacchettine rosa di keal sono quelli per congelare praticamente ho portato diciamo loro richiedono cinque sei cambi ne ho portati sei più il cambio d'uscita ma comunque non credo userò tutti quanti perché c'è i bimbi neonati ma quanto si possono sporcare quindi comunque ho portato tutto in ogni sacchettina adesso non ve le apro perché sono tantissime ma in ogni sacchettino ho messo un bode a mezza maniche per sotto poi dei calcini un bavaglino un cappellino e poi cambia secondo te di quello che c'è praticamente o dei pantaloni o dei pantaloni lunghi col bode a maniche lunghe o una tutina di ciniglia o una tutina felpata quindi dipende da quello che abbia commesso dentro diciamo il resto è un po misto così poi per uscire oltre al cambio ho portato anche questo qui che è il cappottino in pelliccia 10 and em magari vi metterò una foto alla fine del video non lo so vediamo è un colore